Su 13.000 metri quadri, Innovation Beauty Lab ha proposto oltre 100 fra i principali brand di servizi alla persona, ma anche incontri su vari temi, dall'estetica oncologica all'intelligenza artificiale, masterclass e workshop. Questo è un progetto storico che si è sempre svolto a Milano, è arrivato alla quarantesima edizione. A Rimini abbiamo ampliato il format, l'abbiamo rivisto, abbiamo aperto la visitazione anche al consumatore finale, proprio con l'obiettivo di creare maggior dialogo e confronto tra aziende, centri estetici e consumatore finale. Nel corso dell'evento anche i premi alla carriera ha due icone dell'estetica. C'è molta gente, soprattutto oggi, che non cura il proprio aspetto, si veste casualmente. Un grande coreografo mi diceva sempre che il corpo non lo si ha, il corpo lo si porta, il proprio corpo. Il corpo va portato anche nei momenti difficili. I giovani tendono a stare ingobbiti perché hanno il telefonino, il computer a cui badare, invece il portamento è di fondamentale importanza. Curare la scarpa, anche da ginnastica, ma che non sia sporca. Curare di non andare in giro trasandati, di non avere la forforo dei pelacci su una giacca. Questo è già importante. Poi, io dico sempre, ma è una mia idea, di evitare i colori che spengono, che quasi sempre sono il marrone grigio o il marrone spento. Primo consiglio per chi ci ascolta è non sentirsi in colpa di avere cura di sé. Perché finora, fino a qualche anno fa, curarsi per una donna era quasi una questione di vanità, non di amore per se stesso. Quindi abbiate cura di voi attraverso l'estetista, attraverso il massaggio, attraverso il trucco, attraverso il volervi vedere bene. Perché vi volete bene e non perché non vi amate. Usate l'estetica per avere cura di voi, non per cambiarvi, perché non vi piacete. Mi raccomando.